Ciao a tutti ragazzi, oggi vi mostrerò come pulire e cucinare nel miglior modo possibile il Carabineros, questo gamberone atlantico enorme. Per la pulizia quindi andiamo a eliminare il carapace da appena dopo la testa e lasciamo l'ultimo della coda. Andiamo a strappare in questa maniera, facendo attenzione a non rompere il gambero. Perfetto, quindi una volta eliminato tutto il carapace, con l'aiuto di una pinza andiamo qua dentro e andiamo a eliminare l'intestino. Adesso nostriamo il nostro gamberone pronto per essere cucinato. Andiamo ad adagiare il nostro Carabineros all'interno della vaporiera, chiudiamo. Una volta che l'acqua ha preso bollore, la abbassiamo e lasciamo il Carabineros chiuso per 4-5 minuti. Trascorsi i nostri 6 minuti, apriamo la vaporiera, andiamo ad appoggiare il nostro gamberone atlantico su un letto di misticanza, aggiungiamo un filo d'olio extravergine e un pizzico di salamato.